Un nuovo progetto pilota che mira a digitalizzare i piccoli acquedotti montani, migliorando significativamente il servizio idrico per la comunità nelle aree interne delle zone montane dell'Alta Carnia, Dolomiti Friulane, Canal del Ferro e Valcanale, Val del Torre e Natisone, tutte zone caratterizzate da vasta estensione territoriale e bassa densità di popolazione, spesso dipendenti da acquedotti rurali alimentati da sorgenti superficiali in aree remote, vulnerabili e a siccità estiva e gelo invernale. Per rispondere a queste problematiche, i gestori del servizio idrico integrato della regione Friuli Venezia Giulia, riuniti nella rete d'impresa Smart Water Management FWG, hanno quindi sviluppato un avanzato progetto di digitalizzazione degli acquedotti rurali presenti in queste aree, con l'obiettivo di introdurre tecnologie innovative e soluzioni avanzate capaci di rilevare in anticipo scostamenti quantitativi e qualitativi dei parametri della risorsa idrica tramite l'installazione di sistemi di telecontrollo. Il progetto proposto si focalizza quindi sull'installazione di sistemi tecnologici di controllo e comando che rientrano nell'ambito dell'industria 4.0, assicurando monitoraggio e la gestione del servizio idrico di queste zone più efficienti al fine di allinearsi agli standard degli acquedotti di pianura. Grazie. Grazie.